Non sono neutrale a questo tema. Il premio Borsellino riporta alla mente del sindaco di Pescara quei tragici fatti di mafia che unirono a distanza di 60 giorni le vite di due uomini dello Stato, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il premio torna a Pescara dopo 5 anni di assenza e l'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani parlandone, ascoltando storie e testimonianze dirette, con la proiezione di docufilm in una sola parola per non dimenticare. Non posso nascondere che presentare nella veste di sindaco protempore il premio Borsellino giunto alla sua 19esima edizione non mi è neutro perché significa tante cose. Non solo un premio storicizzato ma un premio che porta il nome di un simbolo della lotta alla mafia, un simbolo imperituro dell'Italia per bene che non si rassegna. È una pagina che resta aperta, una ferita mai rimarginata, però anche l'inizio di una nuova resistenza, se così si può dire. Le mafie non sono scomparse. La differenza è che oggi non fanno più il rumore assordante di un'autobomba. Si muovono nella folla senza essere riconosciuti e forse questo dovrebbe fare ancora più paura. E da allora non c'è più la mafia che fa saltare in aria le persone ma non per questo essa è meno pericolosa. Anzi paradossalmente il non far ricorso a forme di attentati così eclatanti probabilmente determina anche un assopimento nelle coscienze. Però la mafia con il colletto bianco è altrettanto pericolosa di quella del Tritolo.